Noi siamo due magistrati, io mi chiamo Valeria Scigliola, lavoro alla procura di Pesaro, Elisabetta Morosini è un giudice del Tribunale di Pesaro e si sente, sì, come vi ha già ascoltato Valeria, abbiamo messo insieme le idee, ma in realtà abbiamo messo insieme le cose che ci piacciono e le passioni e la biblioteca della legalità ci è piaciuta, ci è piaciuta proprio da subito come idea e ci piacciono tutti quei libri che sono messi lì su quel tavolino, per cui la prima cosa che abbiamo cercato di fare quando forse non c'era neanche un anno di vita di Bill è stato quello di portarli dentro il Tribunale di Pesaro e ospitare i libri della biblioteca. Non ero nel programma ma soltanto per portarvi il saluto di tutti i magistrati di Pesaro perché sono rappresentante dei magistrati di Pesaro e sono Elisabetta Morosini, l'intervento lo fa Valeria Cigliola, io mi sono ritagliata soltanto una parte, anzi no, mi è stata data questo incomodo che da professionista di legalità poi farò la lettrice di lettante, quindi mi è sempre uno stimolo più interessante di quello che possiamo dire noi su questi argomenti, quindi mi scuso fin da adesso. Passo la parola a Valeria Cigliola. Sì, adesso veramente non so se ho qualcosa di interessante da dirvi perché tutto quello che cerco di mettere insieme oggi in realtà l'ho imparato in questi dieci anni di esperienze, di rapporti, di relazioni che abbiamo avuto noi magistrati di Pesaro e l'Associazione Nazionale Magistrati di Pesaro di cui Elisabetta è l'anima, per questo lei è qui e oggi ci fa l'onore di leggere i brani che abbiamo scelto insieme. L'abbiamo imparato nella relazione che abbiamo avuto con i nostri amici e partner del fattore della legalità e della biblioteca, ma anche e soprattutto con le scuole, con gli insegnanti, con i ragazzi delle scuole nelle quali siamo andati, dove siamo stati invitati, che invece abbiamo invitato a venire al Tribunale di Pesaro, che abbiamo incontrato in luoghi pubblici e che incontriamo ancora in luoghi pubblici come questa biblioteca e in tutte le altre occasioni. Quindi sono molti anni che noi ci interroghiamo sull'apporto che possiamo dare, sulle competenze che possiamo apprendere da voi o scambiare con voi e allora abbiamo messo insieme qualche idea. Devo dire che tutte queste idee convergono su questi due concetti che adesso cercheremo magari di elaborare insieme, per cui interrompetemi anche, che sono quelli della lettura, quella della narrazione e quella della legalità. Adesso della narrazione faccio fatica a parlare soprattutto dopo questo meraviglioso intervento, della legalità faccio ancora più fatica a parlare perché obiettivamente è una parola che vuol dire tante cose. Penso che ormai sia più facile parlare di illegalità, forse il concetto è ancora più semplice parlare di illegalità che di legalità. Ormai è una parola che ha tanti significati, che ha avuto tanti usi, ha avuto tanti abusi, per cui ecco la prima cosa che forse bisognerebbe fare è scomporlo ed è una cosa che spesso noi cerchiamo di fare con i ragazzi quando andiamo a incontrarli nelle classi e gli chiediamo subito ma che cos'è la legalità per te? Scomporlo forse significa arrivare un attimo, anche banalizzando, sicuramente semplificando, arrivare un po' al nodo, al cuore di questo principio. Forse dovremmo partire dal seme che è la norma. Dobbiamo un attimo tornare all'origine, che cos'è la norma, se parliamo di legalità sicuramente parliamo di una legalità in un ordinamento, quindi un'organizzazione di norme e quindi forse dobbiamo, quando parliamo di legalità ai ragazzi, tornare alla norma che è il punto di partenza. La norma è sicuramente una regola, questo io vedo che tutti gli insegnanti lo trattano come tema, soprattutto nelle scuole elementari e poi anche lavorandolo nuovamente nelle medie. Noi con questo progetto della Biblioteca della Legalità, l'avete capito, siamo orientati a queste fasce d'età, quello delle elementari e quello delle medie. Io le chiamo medie, non so se si chiamano, forse non si chiamano più così. Ah, non si chiamano più, scusatemi, però capite, da questo comprendete la mia età e anche noi continuiamo a chiamarlo così. Esatto, ecco vedi questo è un codice condiviso, come la norma, come la norma giuridica ce l'ha già detto Odella, perché in uno stato democratico la norma, la norma giuridica è questo, è una regola di convivenza, questo voi ho visto che lo spiegate molto bene ai ragazzi, almeno io mi riferisco a quelle insegnanti che già ho avuto modo di conoscere e di incontrare nelle loro classi, lo spiegate molto bene, è una regola di convivenza, quindi è una regola che permette di vivere insieme in una comunità che può essere, lo diciamo sempre, una comunità ristretta, come quello del gioco di strada, quando i ragazzi dicono tu, come ci diceva Odella, tu stai imbrogliando e allora sei fuori, perché questo non si fa nella nostra comunità di gioco, oppure in una comunità più ampia come quella statale, quindi l'ordinamento statale è fatto di tante norme che in uno stato democratico sono norme che esprimono valori condivisi, sono questi, non sono valori assoluti, non sono una giustizia che viene dall'alto, non sono una verità soprattutto, sono valori condivisi che naturalmente vengono elaborati, anzi dovrebbero essere elaborati in un tavolo di confronto che è fatto da un dibattito pubblico, continuo, attraverso mezzi di informazione e soprattutto da un dibattito che sia un dibattito formato e informato. La norma in uno stato democratico pertanto è soltanto questo, anzi è soprattutto questo, è una regola nella quale, di convivenza, nella quale sì, idee diverse arrivano a un contemperamento. Naturalmente col cambiare della comunità che le esprime è normale che cambi anche la norma. questo avviene in un sistema democratico compiuto e in un sistema democratico che sia in grado di funzionare, un cambiamento continuo e progressivo della legislazione, da questo la legge, l'adesione del cittadino alla legge perché la legge è una legge giusta, in questo senso la legge è giusta, la legge è giusta in uno stato democratico perché è espressione dei valori che in quel momento sono i valori non prevalenti, ma i valori condivisi da tutta la comunità. Se questo è il senso della norma, quindi regola di convivenza, ci chiediamo qual è il luogo, il luogo in cui parlare di queste cose ai ragazzi, qual è il luogo in cui spiegargli o proporgli il senso condiviso della convivenza, sicuramente le biblioteche dove si può leggere, sicuramente, anzi no, forse i tribunali dove si applica la legge, ma molto prima il luogo deputato è naturalmente la scuola. Questo senso della norma, cioè perché esistono delle regole che poi diventano leggi o diventano appunto regolamenti scolastici o la regola del gioco nella nostra piccola comunità, questo senso della norma, significato della norma, naturalmente se noi lo vogliamo offrire al cittadino, dobbiamo iniziare dalla scuola, per tanti motivi. Siccome anche qui io non lo so esprimere proprio benissimo, allora usiamo le parole di un altro magistrato che l'aveva capito molto prima di noi, noi l'abbiamo capito con molto ritardo, però a un certo punto i magistrati, questo è uno spirito abbastanza condiviso nella magistratura, si sono accorti che stare nei tribunali a semplicemente applicare la legge, magari applicare delle pene a delle persone, non è che serviva, ma non serviva fino in fondo. Però Paolo Borsellino ce l'aveva detto molto prima e ce l'aveva detto molto prima a che cosa serviva, io ve lo leggo. Purtroppo i giudici possono agire solo in parte alla lotta alla mafia, se la mafia è un'istituzione antistato che attira consensi perché è ritenuta più efficiente dello Stato, è compito della scuola, rovesciare questo processo perverso formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni. Quindi questo è quello che anima la nostra presenza qui, la partecipazione è una bille, quindi sono le parole di Paolo Borsellino. E questo lo pensiamo profondamente, ma penso che veramente tutte le persone qui presenti oggi lo condividano, cioè se vogliamo uno Stato dove si viva, una comunità dove si viva con rispetto reciproco e che tenda a una felicità individuale ma anche una condivenza pacifica, naturalmente questa cosa noi la dobbiamo mettere in chiaro da subito, cioè da quando siamo piccoli dobbiamo offrirlo, questo concetto, questa possibilità ai nostri giovani. E allora la scuola, la scuola perché voi siete educatori oltre che insegnanti, no? E la scuola anche per tanti altri motivi, perché la scuola è soprattutto alle elementari, è il primo luogo di socializzazione. Cioè la famiglia è importantissima naturalmente nell'educazione dell'individuo, è fondamentale, però il primo luogo in cui l'individuo esce dalla famiglia è la scuola. Esistono tantissimi numerosi individui che hanno fuori dalla famiglia un'unica occasione di incontrarsi con una mentalità o con regole diverse da quelle della famiglia, ed è la scuola. Ed è questa scuola, quella elementare, quella del medio, è la scuola dell'obbligo. Voi lo sapete perché voi con queste cose ci lavorate ogni giorno e li incontrate ogni giorno, però per molte persone solo quella scuola, quella scuola dell'obbligo sarà l'occasione della loro vita di confrontarsi con qualcosa di diverso. Questo lo comprendete, modi di pensare nuovi, modi di pensare diversi, uno stile di vita alternativo, un punto di vista differente da quello che ti offre la famiglia, che può essere bello o brutto, può essere buono, può essere anche migliore di quello dell'insegnante della scuola, perché magari la famiglia è una famiglia bellissima, però può essere anche quello totalizzante, può essere esclusivo, ossessivo. Per cui la scuola è quanta responsabilità, io lo so che gli insegnanti sono gravati, ma tanto questo è solo l'inizio, adesso ho ancora 4-5 slide e vedrete quante altre responsabilità vengono scaricate sulla scuola e sugli insegnanti, questo lo sappiamo, però per questo è uno dei mestieri più belli della vita, insomma. E questo pertanto la scuola è sicuramente il luogo deputato di cui parlare di regole, regole in comunità condivisa. Ecco, come però parlare di regole ai ragazzi, ci chiediamo, ci siamo chiesti, soprattutto quando andiamo noi nelle classi, cioè noi siamo sostanzialmente dei parrucconi, siamo dei magistrati, andiamo lì, abbiamo dei ragazzini di 10 anni, di 12 anni, cioè come possiamo parlare a loro delle cose in cui noi crediamo, ad esempio il senso, cioè perché puoi rispettare la norma, le regole, perché se invece potrebbe essere tutto più bello, e allora ci siamo messi in testa che forse una delle cose più importanti da fare da subito, quando sono piccoli, è dargli un senso positivo della norma. Allora sulla regola viene, lo sappiamo tutti, viene a qualità intesa spesso come un limite, forse ha un effetto limitante, un effetto finale che deve essere assolutamente limitante, perché in un paese democratico, possiamo anche tornarci più avanti, non esistono libertà assolute, non esistono doveri assoluti perché non esiste un valore, abbiamo detto prima, assoluto in principio, non esiste una verità che ti viene diversamente dai totalitarismi di cui parlavamo prima. Quindi certo, forse c'è un effetto della norma, della regola che deve essere limitante, però non è un effetto negativo, noi pensiamo che ai ragazzi bisogna fin da subito spiegargli l'effetto positivo della norma. Cosa significa questo? Innanzitutto che quelle regole esistono per loro, per il loro benessere. Quelle regole servono per farli vivere bene, per farli vivere insieme agli altri e farli vivere bene. Questo naturalmente nasce anche da un'esperienza quotidiana che immagino possa essere interna alla classe, ma ad esempio mi viene in mente, proprio l'esempio che funziona sempre è quello del semaforo rosso, no? Perché tu ti devi fermare quando il semaforo è rosso? Quella è una regola, il semaforo rosso la macchina si ferma, il altro senso ti prenderà e ti farà molto male. Quindi quella regola, che è una regola assoluta, perché il rosso significa tu ti devi fermare, se non ti fermi ti sequestro il motorino e tutto quanto, serve a tutelare te, serve a tutelare la tua salute. È una regola che ti pone un divieto, ma che ha un senso positivo. Questa cosa può essere moltiplicata in una serie infinita di esempi, che naturalmente potete valutare voi a seconda della situazione che state vivendo, ma in classe penso che ne abbiate esempi continui. Chiudi la finestra, non ti buttati, veramente esempi continui. Io ci credo molto in questa cosa. Facciamogli acquisire un senso positivo, perché la norma, la regola è protettiva, appunto sempre in uno Stato democratico, è protettiva, protegge il ragazzo, non solo, ma gli garantisce le sue libertà. La norma è fatta per il cittadino, per garantirgli le sue libertà, anche quando ti limita. È proprio per questo, perché essendo una condivisione deve trovare un limite a una libertà assoluta per permettere la tua libertà. Penso che se si riesce ad arrivare a questo valore positivo, quindi fargli sentire che la norma, la regola è un'occasione che gli viene offerta, allora è facile il passaggio successivo, che secondo me è veramente un passaggio importante. Cioè quello di far sentire il ragazzo un soggetto del diritto, non un oggetto del divieto, non l'oggetto dell'imposizione. Io ti dico fermati, ma il soggetto di diritto attento blocca la tua macchina, perché altrimenti ti fai male e tu sei il soggetto di diritto. fondamentale questo passaggio, perché quello ulteriore è lo Stato sono io. Se io mi sento protetto dall'ordinamento e dalla norma, allora io divento il protagonista dell'ordinamento, allora io divento finalmente lo Stato. Acquisisco un'identità che mi permette di sentirmi da un lato protagonista della vita in comune, della comunità, e dall'altro il soggetto principe. È il fine della norma. Il mio benessere, la mia vita felice insieme agli altri, è il fine dell'ordinamento. Questo è il passaggio che io ritengo, dopo questi anni appunto di confronto con voi, veramente fondamentale. Perché penso che questa sia la base per poi affrontare la vita dei cittadini, della comunità, innanzitutto con un forte senso di appartenenza e poi con un forte desiderio di orientarla. E quando diciamo cittadini consapevoli, penso che si debba arrivare a questo, al pensiero intimo e assimilato che lo Stato sono io. Cioè io sono cittadino non come protagonista marginale della vita della comunità, ma perché io sono il fine di quell'ordinamento. E da qui poi nasce tutta una serie di, potrebbe nascere, adesso è ovvio che andiamo per ipotesi, insomma, potrebbe nascere tutta una serie di effetti positivi, come quello del rispetto delle istituzioni, quello del desiderio di partecipare alla vita democratica, interesse ad approfondire le dinamiche della vita democratica, proprio perché se la norma ha un senso protettivo, se la norma è fatta per me e per permettere a me di realizzare i miei fini, i miei talenti, allora chi viola la norma è contro di me, è il mio nemico. Questa cosa che io non so se sono riuscita a dirvelo bene, lo dice meravigliosamente la Costituzione, per cui lo dice proprio con parole splendido, è bellissimo, lo dice veramente molto bene. E il nostro piccolo soggetto di diritto passa infatti a una dinamica che la Costituzione racconta in maniera meravigliosa e che è la successiva dinamica importante per la vita di una cittadinanza, è quella tra i riti e i doveri. Allora, la nostra Costituzione, per chi ha avuto l'occasione di leggerla e la fortuna di leggerla, perché secondo me è un testo veramente molto bello, è tutta intessuta da questa dinamica, diritti, doveri, diritti, doveri. Allora, quando noi diciamo, come dicevo un attimo fa, lo Stato sono io, io sono il protagonista, io sono il soggetto di diritto, io sono il centro dell'ordinamento, voi vi rendete conto che c'è un pericolo proprio imminente, che oltretutto è un pericolo insomma molto concreto in relazione a quel tipo di età, cioè di solleticare un individualismo esagerato. Allora io centro del mondo, allora si può creare un equivoco ulteriore, cioè che la mia libertà sia la più importante di tutte, anzi si può ingenerare un equivoco molto più pericoloso, che è quello di pensare che la libertà sia fare quello che si vuole. Io, soggetto di diritto, io, lo Stato sono io, tutti devono fare quello che voglio io. Anzi, avete capito, cioè non semplicemente io desidero far prevalere la mia volontà. Peggio, pensare che libertà sia fare quello che si vuole. E' questo la libertà? Non credo. Libertà è qualcos'altro e ci arriveremo, ci arriviamo tra un attimo. Questa dinamica, diritti, doveri, ce lo spiega in maniera meravigliosa. Allora, una volta che abbiamo spiegato al ragazzo, abbiamo proposto al ragazzo, insomma, l'idea che la norma è fatta per lui, la norma è positiva e lo protegge, la norma lo aiuta a crescere, a svilupparsi e a realizzarsi, dobbiamo anche ricordargli che accanto a un diritto lui ha un dovere. Così, ce lo dice bene la Costituzione, ce lo dice nell'articolo 2, che è quello che mi piace di più. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, i diritti inviolabili dell'uomo. Tu, soggetto di diritto, inviolabili, inviolabili dice, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Quindi la tua libertà di persona, il tuo talento, la tua intimità, la tua identità, ma anche il tuo essere sociale, il tuo stare insieme agli altri. Diritti inviolabili. E richiede, è così la Costituzione, te lo mette subito e te lo mette in maniera molto chiara e richiede l'avventimento dei doveri inderogabili. Te lo mette subito, accanto a un diritto ci deve essere un dovere. Il diritto è inviolabile e il dovere è inderogabile. Cioè tu ti puoi inventare tutte le scuse che vuoi, ma tu questo dovere ce l'hai e lo devi rispettare. Che doveri? I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Solidarietà! Ma che parola meravigliosa c'è nella Costituzione? Solidarietà! Allora, la dinamica diritti e doveri è davvero importante. Io penso che sia una delle cose che i ragazzi... è un martellamento. La Costituzione c'è veramente in tutti i suoi principi generali, fondamentali, la mette sempre. Però penso che vada coltivata con i ragazzi di quell'età. Diritti e doveri. Perché la libertà è questo. La libertà è assunzione di responsabilità. Non c'è libertà senza responsabilità. E il passaggio ulteriore quindi è che la libertà non è fare quello che voglio. Non è fare tutto quello che voglio. La libertà è scegliere. Ce lo dicono tantissimi dei nostri libri della biblioteca, tanti di quelli che oggi ci ha citato Della. La libertà è scelta. La libertà è avere la possibilità di scegliere. L'anno scorso sì, abbiamo letto con Luisa Mattia alcuni brani del suo libro La scelta che a noi piace tantissimo, lo regaliamo, lo portiamo ai ragazzi. Perché la libertà è quello, avere la possibilità di scegliere. Però sapere che ogni scelta ha delle conseguenze e che a ogni scelta consegue una responsabilità. Per cui non è fare quello che voglio e poi magari sottrarmi pure alle conseguenze, quindi nascondermi. Ma la libertà è anche quella di scegliere, di trasgredire una norma e sapere che quella trasgressione comporta delle conseguenze. Accettare le conseguenze. quella è la libertà. Io non dico che l'uomo libero deve, è soltanto l'uomo che in maniera dirigente osserva le norme. Anche trasgredire una norma è una libertà, però ha delle conseguenze. Se quella è una scelta, allora ti assumerà le tue responsabilità. Ecco, ancora sull'articolo 2. E poi su un altro articolo della Costituzione. Questo è il passaggio successivo. Abbiamo detto diritti e doveri, diritti inviolabili, doveri indelogabili, di solidarietà. Già questa parola nella Costituzione veramente ogni volta mi sorprende. E poi ce n'è un altro, la partecipazione. Allora, la nostra è una Costituzione bellissima perché la Costituzione italiana è una delle più belle del mondo. Tutte quelle che sono state, almeno in Europa, promulgate in epoca successiva, si sono ispirate a questa bellissima Costituzione. E l'articolo 4 dice un'altra cosa molto bella. La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro. Questo è un tema fondamentale. Purtroppo non lo posso affrontare qui, non ne ho neanche le competenze, però ricordiamocelo sempre. Il lavoro è lo scheletro della vita sociale democratica così come scelto nella nostra Costituzione. La nostra Costituzione si apre con l'Italia, una Repubblica democratica fondata sul lavoro e dopo solo tre articoli, nell'articolo 4, lo ridice. La Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro. È lo scheletro della nostra vita sociale. È un tema fondamentale, però mi piaceva ricordarlo, ma non me ne posso soffermare. Però dice una cosa, leggevo questo coma dell'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Questa è un'altra caratteristica della Costituzione italiana, che la rende unica rispetto a tutte quelle che l'avevano proceduto. Non è soltanto un testo normativo fondamentale, per noi è quello di grado più alto, che ci dice quali sono i nostri doveri e quali sono i nostri diritti, ma dice anche, impegna lo Stato. Dice anche che se esiste un diritto, la comunità, ma le istituzioni anche, sono tutte impegnate a renderlo effettivo. E come si rende effettivo? Questo è un impegno sicuramente per le istituzioni che sono preposte alla tutela di questi diritti, ma è un impegno anche per la comunità. E ce lo dice subito dopo. Ce lo dice nel secondo coma e ci dice, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, quindi la propria capacità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Allora, quel principio, quel dovere inderogabile di solidarietà, nell'articolo 4 ci viene pure spiegato in quale modo ne lo dobbiamo assolvere. Perché la Costituzione impegna le istituzioni a rimuovere tutto ciò che rende non effettivo, riempiamo i diritti e le norme di contenuto, quello che dicevamo prima. Quindi impegna le istituzioni, ma impegna anche noi. E ce lo dice. In quale modo? Con la partecipazione. Con la partecipazione alla vita pubblica, ma anche alla vita privata, alla vita sociale, alla vita della famiglia. Con la partecipazione. Perché noi abbiamo il dovere, dopo il diritto più importante che è il diritto al lavoro, noi abbiamo il dovere di concorrere al progresso della società. In qualunque modo. Quindi ricordiamo ai nostri ragazzi che loro sono soggetti di diritto e proprio perché sono soggetti di diritto, loro hanno il dovere di concorrere al progresso della società. In quale modo lo scelgono loro? E ce lo dice la Costituzione. Secondo le proprie possibilità. Perché non tutti hanno la possibilità economica, o quella di tempo, o quella di denaro, o quella di talenti. E secondo la propria scelta. Quindi nel rispetto della propria personalità. Però loro hanno il dovere di partecipare alla vita sociale. Quindi il ragazzino che si, per esempio che vale quello che vale, ma che si isola in fondo alla classe. Ricordatevi, tu sei bravo, stai imparando, però ricordati che sei parte di questa classe. E quindi tu ce l'hai. Devi averlo l'impegno a partecipare alla nostra vita. Dici quello che tu pensi. Perché dire quello che tu pensi e quello che tu vuoi è il tuo diritto, ma è anche il tuo dovere. la tua forma di partecipazione alla vita sociale. E anche su questo abbiamo qualcuno che lo dice meglio. Da un lato le agende politiche silenti, la corruzione dello spirito pubblico, l'abdicazione delle classi dirigenti, la superficialità culturale che purtroppo contagia anche la magistratura. Dall'altro lato, la conoscenza, come arma e forza produttiva di nuovi rapporti sociali. E l'organizzazione, che incorpora e sviluppa funzioni di consenso e di controllo, di orientamento culturale e di coesione. Nella tensione tra i due mondi, talora comunicanti, sta la ragione della non rassegnazione. La società, alla fine, è mossa da logiche di sistema. Nulla di ciò che esiste e si muove, resta senza produrre effetti su tutto il resto, nel male ma anche nel bene. Questa è la conclusione di questo libretto, che è il Manifesto dell'antimafia, che è nella Biblioteca della Legalità, che a noi piace tantissimo perché è un manualetto piccolo e maneggevole, però quando uno lo legge trova tutti i principi che può mettere a frutto, è nando dalla chiesa. Ne abbiamo portato, purtroppo li compriamo in continuazione, ma c'è una copia lì a disposizione. Quei libri che sono lì li abbiamo portati per voi, sono quelli che abbiamo trovato, poi li potete prendere. Si chiude così, ma dentro è ricco di cose, di caselline dove trovare per ciascuno il proprio posto per fare qualche cosa per gli altri. Ecco, questi sono veramente quattro concetti messi in fila, messi in ordine, non so se sono stati chiari, però sono i concetti sui quali noi appunto da anni riflettiamo e che abbiamo proposto anche in alcune situazioni e in alcune esperienze, ad esempio alcune esperienze locali. Adesso io ve ne parlo di tre, ma sono soltanto piccoli esempi per riflettere in quale modo questi concetti poi possono essere proposti ai ragazzi. Ad esempio la prima è quello che conosciamo meglio, che è il processo simulato, qualcuno di voi vi ha già partecipato, qualcuno ha già chiesto di parteciparvi e vi spiego subito che cos'è. È un progetto che costituiamo da anni nel Tribunale di Pesaro, tra magistrati, avvocati, cancellieri, forze di polizia. Noi organizziamo un processo penale che è articolato proprio secondo le norme del codice di procedura penale e applica le norme del codice penale, quindi è un processo secondo le vere regole del nostro ordinamento. È una storia vera, è in genere una storia che è vicina ai ragazzi di questa età, in modo che loro possano capirla, comprenderla e sentirsela vicina, alla quale chiediamo ai ragazzi di partecipare. I ragazzi, comunque i cittadini che hanno meno di 14 anni non possono entrare nei tribunali e non possono assistere ai veri processi penali, se non su autorizzazione del Presidente. Invece noi scegliamo un giorno in cui non ci sono dei veri processi e invitiamo le classi in tribunale e chiamiamo i ragazzi a partecipare recitando la parte, non dell'imputato, finora abbiamo sempre evitato di fargli recitare la parte dell'imputato perché in genere quest'imputato viene condannato. E allora abbiamo pensato che, almeno finché sono giovani, però gli chiediamo di recitare la parte, è una recita a soggetto, quindi nominiamo un canovaccio, di recitare la parte della persona offesa, cioè la vittima, in genere sono lesioni personali, una rapina con delle lesioni personali. Quindi la parte della vittima, la parte dei suoi amici che diventano testimoni, che lo aiutano a trovare il colpevole e che poi vengono al processo a testimoniare, è anche la parte di un testimone della difesa. Quindi noi replichiamo in tribunale una dinamica processuale reale, esattamente come avviene nei beni processi, con i ragazzi. Allora perché questa esperienza ve la porto oggi ad esempio, ma perché ci sembra rappresentativa di tante cose? Innanzitutto perché ci piace aprire il tribunale e aprirlo ai cittadini. Anche una nostra collega l'altro giorno diceva perché gli ospedali e i tribunali sono sempre meglio non entrarci. E c'ha ragione, è sempre meglio non entrarci. Però in realtà noi abbiamo un'altra filosofia, che il tribunale, siccome le sentenze sono messe in nome del popolo italiano, il tribunale è un luogo di cittadini, non di tecnici, di esperti, è il luogo in cui si amministra la giustizia, è il nome del popolo italiano. Quindi è il luogo per i cittadini. E cerchiamo da anni di farlo, far diventare quel palazzo pubblico un palazzo della cittadinanza in cui si entra senza timore, in cui si entra con fiducia e so benissimo che questa è una cosa difficile da guadagnare in questo momento storico, in cui si entra non per timore o con la preoccupazione di avere un processo, ma con la speranza, anzi con la pretesa che un proprio diritto in quel palazzo venga riconosciuto. Quindi la prima cosa che noi vogliamo fare è aprire il tribunale ai cittadini. Poi glielo facciamo vedere perché il palazzo di giustizia di Pesaro, noi abbiamo questa una grande fortuna, è un bel palazzo. È un palazzo di un architetto famoso, fatto bene, luminoso, colorato, chi l'ha visitato con le proprie scolaresche lo sa, ma anche se fosse brutto è uguale perché il principio è lo stesso, che i cittadini devono entrare nel palazzo e devono pretendere di vedere come viene amministrata la giustizia, perché la giustizia è una funzione pubblica esercitata in nome del popolo italiano. Poi ci piace coinvolgerli, quindi fargliela recitare questa storia, perché questa storia dice alcune cose, innanzitutto che c'è una vittima che potrebbe essere uno di loro, che vede leso un proprio diritto e va in tribunale perché il proprio diritto venga, non dico riparato, ma almeno riconosciuto. E poi perché? Perché la giustizia la fanno loro, certo l'amministriamo noi, i tecnici del diritto, e ci sediamo lì con le toghe, ci portiamo i codici, ci mettiamo i ragazzini accanto, a volte poi facciamo leggere la sentenza a loro, quindi facciamo una cosa molto leggera e poi ci scherziamo, facciamo delle testimonianze che li facciano ridere, quindi il tono è abbastanza leggero, però il principio è che in quell'aula di giustizia nessuno ci sarebbe arrivato se primo la persona offesa alla vittima non l'avesse denunciato, secondo se i suoi amici non l'avessero aiutato a trovare il responsabile. E quindi loro vedono, perché ne vivono l'esperienza, che i protagonisti anche di una funzione pubblica come questa sono i cittadini, perché il responsabile, cioè la giustizia non l'amministri se prima tu non fai la tua parte di cittadino, quindi denunci e testimoni a favore o contro, dai a dire la tua realità. Ci sembra quindi questa una piccola esperienza, anche questa vi devo dire è assolutamente replicabile in mille forme, nelle classi, io penso che proprio, ecco dopo ce n'è un'altra infatti che, le due forme fondamentali in cui questa esperienza possa essere replicata sono quelle del gioco e quelle dello sport. Lo sport che non sia naturalmente esclusivamente competitivo, ma che sia uno sport che è finalizzato alla partecipazione, no? Quindi queste esperienze qui di regole che devono essere condivise, di regole che ti proteggono e che tutti devono esercitare con il rispetto anche del limite, perché altrimenti gli altri non possono giocare, sono le esperienze della loroità fondamentali che naturalmente i bambini hanno fatto da soli per secoli, no? Qual è il problema adesso dei ragazzi di questa epoca? È che non giocano più per strada, no? Che non hanno più il cortile, non ha, cioè queste esperienze che prima anche noi abbiamo fatto da soli, adesso non lo so, non mi sembra che ci sia più l'occasione di farle, per questo ancora diventa importante una volta ancora la scuola. Un'altra esperienza che vi volevo raccontare, ecco sono le lezioni di legalità nel bagno della scuola. Allora questa è un'altra piccola cosa, è un esempio che nasce un po' dai miei ricordi di quando andavo a scuola io, no? E un po' da alcune cose che sono venuta a sapere un po' per lavoro e un po' anche perché sono madre di alcuni bambini che hanno più o meno questa età e quindi frequentano questo ordine di scuola. Allora, gli stupefacenti nel bagno della scuola, no? Ci sono sempre stati. Adesso c'è una cosa che mi allarma da un punto di vista professionale, no? Ed è che purtroppo da almeno un decennio se non di più l'uso di stupefacenti si sta sempre più abbassando con l'età e quindi obiettivamente è un problema che inizia dagli 11 anni in su, a me questa cosa mi impressiona molto e mi spaventa perché avrà degli effetti naturalmente sulla società futura e sulla cittadinanza futura. Però perché lezioni di legalità? Adesso non voglio parlare dell'uso di stupefacenti perché anche qui non ne ho le competenze, però lezioni di legalità. Allora, questa cosa ne parliamo anche l'anno scorso, non so se qualcuno era presente. Ricordatevi che se andiamo a dire ai ragazzi lo Stato sono io, quindi diventa tu protagonista, non dovete dimenticarvi che lo Stato siete voi, cioè vale per voi prima che per loro. Allora, la situazione di uno spinello che circola in classe, tutti lo vediamo con, non con simpatia, però con tolleranza, soprattutto se non è appunto a un'età così bassa come quella delle scuole medie, magari ai vicei la cosa viene tollerata. Mi risulta anche che molte situazioni siano non dico conosciute, ma immaginate da chi vive in quella scuola e molte situazioni siano anche tollerate da chi vive in quella scuola. Al di là del danno che può fare lo stupefacente, sul quale io non ho competenza e non vi posso raccontare, però vi dico che tollerare uno spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della scuola è una cosa gravissima, nell'ottica della formazione di un cittadino, perché innanzitutto la cessione di sostanze stupefacenti continua a essere tra i reati più grandi che ci sono nel nostro ordinamento e soprattutto perché è una cosa che viene fatta in un luogo pubblico, che è un'istituzione appunto preposta alla formazione del cittadino. Ora se in quel bagno della scuola non ci sono i carabinieri, primo i carabinieri ci possono arrivare se qualcuno li chiama, secondo non c'è bisogno che ci siano i carabinieri, ci siete voi, ci sono i dirigenti, ci sono anche gli altri compagni. Essere cittadini, protagonisti della vita sociale significa questo, significa avere delle norme che vanno rispettate per sé, cioè io decido di rispettarle, ma significa anche pretendere che gli altri le rispettino. Quindi io molte volte mi è stato detto ma noi non volevamo rovinare i ragazzi e io guardate lo comprendo molto bene questo ragionamento e penso che forse abbia le sue giustificazioni e sia fortemente motivato. Però nell'ottica della formazione di un cittadino va bene, potrebbe anche andare bene non chiamare i carabinieri, ma non va bene tollerare che quella cosa venga sotto i vostri occhi. Quello non può assolutamente essere tollerato perché è una violazione molto forte, oltretutto in un senso negativo della norma perché è una cosa che fa male ai ragazzi e che se viene tollerata lì, loro che cosa assimileranno? Che la norma in realtà si può violare e che me lo fanno fare le persone che in quel momento rappresentano lo Stato, quindi siete voi. Adesso io faccio sempre questo esempio dello stupefacente perché è più facile da comprendere, però anche questo lo vedete, può essere replicato in migliaia di modi. Nella vita della vostra comunità, quella che organizzate voi, questa è una cosa importante e non è la tolleranza o l'intolleranza, è la coerenza, è l'identità, perché questi sono principi che naturalmente non possono essere raccontati, cioè se andiamo dai ragazzi e li raccontiamo così come sto dicendo voi, ovviamente, diciamo sempre, dopo dieci minuti si scollegano, ma anche prima, adesso io ritengo dopo sette minuti e mezzo si scollegano, cioè non glielo possiamo dire in questo modo, glielo dobbiamo fare vivere come esperienza o come nozione, per questo i libri, e adesso ci arriviamo. Ecco, l'ultima esperienza locale di cui vi parlo è del torneo degli oratori, è una cosa così che mi è venuta in mente e si ricollega al valore educativo dell'esperienza dello sport. È una storia locale, c'è un oratorio porrocchiale ed è qui a Fano, ma è come sono sempre stati gli oratori e come ce ne sono tanti in giro per il mondo, no? E ha un bel parco e ha un bellissimo campo da calcio recintato, bellissimo. Questo oratorio apre qualche tempo fa e naturalmente l'accesso è un po' selezionato, devi avere la tesserina dell'oratorio, non paghi niente, però devi avere la tesserina dell'oratorio. Dopodiché devi avere, per accedere a quel bellissimo campo da calcio recintato, che è tutto in regola con le porte, devi avere alcuni requisiti, cioè devi essere almeno otto persone, perché se no occupi uno spazio mentre ce ne sono tantissimi altri in fila che lo vogliono fare, devi prenotarti, ci devi stare non più di 45 minuti e queste naturalmente sono delle regole che disciplinano l'uso di una cosa, non dico pubblica, ma comune, che appartiene a tutta quella comunità dell'oratorio e la disciplina a seconda delle regole che vengono così. E quando aprì l'oratorio mi hanno raccontato che ci fu naturalmente tutta una serie di imboscati, no? Come immagino ci sia in tutti i circoli così un po' sociali, ma era bellino perché questi imboscati erano tutti ragazzi ed erano ragazzini che puntavano, miravano, entravano nell'oratorio che è molto grande, però puntavano a quel campo lì meraviglioso, bellissimo, recintato. Molti erano anche ragazzini che venivano da fuori, molti fuori frano, fuori città e molti naturalmente erano proprio fuori dal nostro paese, erano extra comunitari. E iniziò tutta una difficile e complicata relazione tra gli educatori che erano volontari, alcuni sono educatori, altri sono persone che fanno altri lavori e che prestano il loro tempo libero a questa cosa, per mediare sull'uso di questo meraviglioso campo da calcio. E quindi si partì dal no, però il no, insomma, un pochino non era nello spirito dell'oratorio e un pochino naturalmente portava tanti altri atti di sabotaggio che erano magari a saltare la merenda dei compleanni che venivano contemporaneamente, non so, festeggiati nello stesso oratorio. Quindi se non li facevi entrare lì, allora loro andavano a mangiarsi la merenda dei bambini, allora tu aprivi il campo da calcio e li facevi entrare così, li chiudevi dentro e loro non davano fastidio ai bambini. E quindi visto tutta questa dinamica complicata che mi hanno detto è andata avanti per mesi, dopodiché un po' alla volta, un po' così, un po' ragionandoci, un po' scherzandoci, un po' anche mi hanno spiegato, a volte facendo i severi e a volte avendo più tolleranza, capisco che questa è anche una dinamica che io da magistrato forse un po' rigida non comprendo, ma voi da insegnante la comprendete molto bene, allora hanno portato questi ragazzi ad accettare queste regole, quindi ragazzi quanti siete? Siamo in sette, no? Siamo in otto, adesso arrivo l'ottavo, vabbè, finché non siete in otto non si entra, quindi è da accettare tutta questa serie di regole e entrare in quel meraviglioso campo secondo le regole dell'oratorio. Lo scorso anno d'estate si è svolto il torneo dell'oratorio, degli oratori di tutta la provincia mi hanno detto, e l'oratorio di San Cristoforo, che questo si chiama così, San Cristoforo di Fano, è stato rappresentato da noi il resto del mondo, cioè da questo gruppo di ragazzini imboscati che nel corso dei mesi sono diventati la rappresentanza di quell'oratorio, sono diventati loro stessi rappresentanti di quell'oratorio, non protagonisti, rappresentanti. Allora, questo è un disegno che denota la mia immagine, la mia età, perché adesso c'è un film adesso. Esatto, ci porteremo tutti i bambini, anche se devo dire che insomma, animati hanno un effetto diverso, se non mi sono là, è un film. Esatto. Allora, un bel gruppo di ragazzini felici che corre verso l'obiettivo, ma in realtà quale obiettivo c'è? Cosa fate voi quotidianamente e cosa cerchiamo di fare noi quando ci incontriamo e parliamo di ragazzi, parliamo di educazione, di dargli degli strumenti per la vita, quindi non c'è un traguardo, non c'è un obiettivo, sono strumenti per la vita che continuano a cambiare, ad acquisirsi per tutta la vita. Però a questo punto noi torniamo al punto iniziale, che è, vediamo un po' se lo ritrovo, che è la biblioteca della legalità. Perché a questo punto bisogna che noi un attimo tiriamo le fila e capiamo perché queste due parole, per crescere liberi, vanno insieme. Perché la cosa centra, in quale modo la legalità può centrare con una biblioteca e con la narrazione. Noi ci siamo dati questa... noi in realtà siamo intimamente convinti che tutto quello che noi ci siamo detti o glielo fai vivere con le esperienze che ci siamo detti. Oppure tu non glielo puoi insegnare, glielo devi far vivere a livello emotivo. E c'è un solo modo in cui tu glielo puoi far vivere a livello emotivo. Naturalmente parlandogli, dedicando tempo a loro, ma non lo so, voi ce l'avete. Cioè adesso non per dire, ma insomma, l'unico strumento veramente efficace è quello della narrazione. La narrazione può essere o il racconto, cioè insomma questo lo sapete meglio di me, o una narrazione nella interrelazione, quindi il racconto, come ci ha fatto prima Della, che ci ha fatto vivere delle emozioni, raccontandoci delle storie. Quindi il racconto nella relazione tra persone, oppure la narrazione intima, che è quella della lettura. Tutte queste cose, questi principi che naturalmente non impari in una facoltà di giurisprudenza o nell'ora di diritto, no? Non le puoi imparare nell'ora di diritto queste cose che ci siamo dette. le puoi solo vivere, vivere intimamente, provare con delle emozioni, le puoi raggiungere soltanto con lo strumento della narrazione. O gli raccontiamo la vita delle persone che sono venute prima, degli episodi, o la vita nostra, oppure glieli facciamo vivere nel rapporto intimo con il libro, con la narrazione che c'è nel libro, che li raggiunga a livello emotivo e che gliele lasci questa traccia, che loro sono importanti, che la norma esiste per proteggere te, che tu sei importante nel tuo diritto, nella tua libertà, ma nella relazione con l'altro, che tu verso l'altro c'hai il dovere di tutelarlo e di impegnarti. Queste cose noi le possiamo trasmettere? Io penso, non lo so, la mia esperienza è questa, che nei tribunali, vabbè, puoi fare tutto un lavoro importante, forse, e nelle biblioteche ha molto di più, nelle scuole ancora, ma attraverso questo strumento che è quello della narrazione. Uno dei libri dove c'è questa narrazione che abbiamo proposto di aggiungere ai 101 per raggiungere i 202, con il piccolo contributo che diamo, è il racconto della storia di Margherita Asta, si chiama Solo con te in un futuro aprile, abbiamo due copie, non lo so, se lo conoscete sapete chi è Margherita Asta, comunque lei si presenta così, ve lo dico perché la narrazione serve sia a chi partecipe e ascolta, ma anche a chi narra, lei è servita tantissimo, perché è un momento della condivisione, della partecipazione, della storia che non è più la sua, ma diventa la storia condivisa con gli altri. Ed è una storia che lei, la sua storia, che racconta a una scuola media di Elice, la prima volta, tramite Libera, l'associazione di Donciotti va a raccontare la sua storia. E dice, sono emozionata, non sapevo cosa dire, comunque parto così. Mi chiamo Margherita Asta, avevo dieci anni quando la mafia ha disintegrato, mia madre e i miei due fratelli. Io sono sopravvissuta perché quella mattina sono andata via cinque minuti prima con un'amica. Mia madre, Barbara, accompagnava i miei fratellini Giuseppe e Salvatore di sei anni a scuola. Si sono trovati lì per caso, quando è scoppiata l'autobomba che doveva uccidere il giudice Carlo Palermo. È l'attentato di Pizzolungo il 2 aprile del 1985. Questa è la storia di Margherita Asta, che quindi è la sorella dei due bambini, Giuseppe e Salvatore, e della mamma Barbara Rizzo, che saltinare in questa auto, che si affianca, esattamente in quel momento lì, alla macchina blindata del procuratore Carlo Palermo. Muoiono la mamma e i due bambini, Carlo Palermo si salva, si porta questa colpa per tutta la vita. Alla fine di questo libro c'è la sua lettera bellissima perché poi lui non ha voluto più incontrare Margherita Asta, non ha più partecipato alle commemorazioni della strage di Pizzolungo, si definisce, e gli scrive questa lettera bellissima dove si definisce, dice così, io non ho subito solo la condanna a morte, ma anche quella a sopravvivere da condannato. E allora alla fine Margherita Asta, che ha vissuto questo dolore enorme che si è portata dietro, si porta dietro, la cui non si può liberare, dice delle parole molto belle, dice che tramite Libera, che segue i familiari della vittima della mafia, ha imparato a parlare, a parlarsi, a narrare, e che sono stati quelli di Libera a parlarle per prima di una tecnica giapponese che si chiama Kintsugi, non so se lo pronuncio bene, scusatemi, e funziona così. Per riparare i vasi di ceramica che si sono rotti, si utilizza una polvere d'oro, non si cerca di far sparire i segni della lacerazione, ma anzi si accentuano, vengono resi ancora più visibili, li si valorizza con un materiale prezioso. Si ottiene in questo modo un oggetto di grande valore, un intreccio irripetibile di linee dorate, uniche, che racconta come quell'oggetto si è frantumato. Questa pratica nasce dall'idea che dopo una rottura, rimettendo insieme tutti i pezzi, possa nascere una nuova forma, ancora più bella. Io credo, mamma, che per ricomporre i frammenti di ciò che restava dopo quella mattina del 2 aprile sia stata usata la colla più preziosa, l'amore di tutte le persone che mi hanno presa per mano in questi anni e che hanno fatto un pezzo di strada con me, con noi. C'è un'altra piccola cosa sempre di questo libro che noi quest'anno, è un libro tutti belli quelli di cui abbiamo parlato, veramente tutti belli. Questo io penso sia particolarmente adatto ai ragazzi delle scuole medie, anche forse delle superiori, ma più ai ragazzi delle scuole medie, perché unisce due cose. Naturalmente l'esperienza personale, perché lei vive questa situazione, questa esperienza unica, drammatica, insomma, irripetibile, e racconta lei in prima persona, quindi fa vivere l'emozione di questa ragazza. E poi perché racconta in maniera molto semplice e corretta quegli anni, che sono gli anni delle lotte di mafia, quindi racconta la mafia non dal libro di scuola, ma proprio con i suoi ricordi. Penso che lo racconti in maniera semplice ed efficace. E poi un piccolo omaggio, tra le cose che sono nate da quella tragedia, dai segni, soprattutto dall'incontro che poi Margherita ha con Libera, è il fatto che a Castellammare del Golfo viene dedicata una biblioteca multimediale, questo lo leggo perché è un piccolo omaggio alla fattoria della legalità e alla bellissima biblioteca che ci ospita, che appunto a Castellammare del Golfo è stata dedicata alle vittime di questa strage una biblioteca multimediale, voluta in un posto che prima è brutto, poi viene confiscato alle mafie e diventa bello perché tutti gli impiegati del comune ci mettono la passione e nelle ore, anche oltre l'orario di ufficio, l'hanno trasformata con le stanze dipingendo l'arcobaleno, esattamente come pensa sia lo spirito della fattoria della legalità. Poi l'hanno rimessa a posto e quella biblioteca è diventata un luogo colorato e gioioso del sapere. Quindi questo è uno dei libri che appunto ci piace regalare quest'anno quando andiamo, con questo bellissimo titolo che in sé è una citazione di una splendida poesia di Naposodini e poi ce n'è un altro che per noi è bellissimo, è molto importante e ve lo racconta Elisabetta. Nome di battaglia provvisorio perché è un racconto, sono tanti racconti in realtà, tanti racconti visti da punti di vista differenti, sono dei racconti di narratori, sono dei racconti di illustratori, sulla resistenza, sul tema della resistenza. Nome di battaglia è il libro che Silvana Sola sostanzialmente dice che deve da sempre a suo padre e glielo doveva, è un libro così molto bello, molto prezioso, anche di questo abbiamo due copie in omaggio e Silvana Sola sarà domani qui con voi, però sarà qui anche il 26 di novembre, apre la rassegna con le parole giuste e presenta questo libro, lo facciamo in collaborazione con l'AMPI che sempre ci è stata vicino nella presentazione con le parole giuste, c'è sempre un libro dedicato alla resistenza, quest'anno è questo, siamo molto contenti perché ci sono tutta una serie di storie bellissime, sia raccontate che disegnate. E a proposito della resistenza, così per meditare sulla resistenza e pensare a un significato che questa possa avere per la nostra cultura, abbiamo pensato a una lettura dallo Stato siamo noi, Piero Calamandrei, Chiare Lettere, che dice questo, fa questa riflessione, se nel campo morale la resistenza significò rivendicazione di uguale dignità per tutti gli uomini e di rifiuto di tutte le tirannie che trasformano l'uomo in cosa, nel campo politico la resistenza significò la volontà di creare una società retta sulla volontaria collaborazione degli uomini liberi uguali, sul senso di autoresponsabilità e autodisciplina, che necessariamente si stabilisce quando tutti gli uomini si sentono ugualmente artefici e partecipi del destino comune e non divisi fra padrone e servi, tutto quello che ci siamo detti oggi. La maledizione che ha gravato nei secoli sul popolo italiano è stata proprio questa separazione, questa scissione tra il popolo e lo Stato, per cui il popolo ha sentito lo Stato come un'oppressione strana, come una tirannia, come un nemico che stava sopra e fuori di lui. E da questa scissione sono nati tutti gli scetticismi e tutti i conformismi che costituiscono il pesante bagaglio della nostra storia politica. Da questo è originato anche quel disprezzo della politica, dei politicanti che è largamente diffuso nel nostro popolo, che si è aggravato durante il fascismo e che anche oggi scredita nella considerazione di tanta brava gente le persone che si occupano di politica militante, che identifica la politica con la transazione e con l'imbroglio. Ma la resistenza ebbe anche questo significato. Fu tutto un popolo che rivendicò a se stesso il dovere e la responsabilità di fare la sua politica, comprendendo che solo con la partecipazione solidale e collettiva alla vita politica un popolo può essere padrone di sé. Grazie.